Questione OTTR, il piano elaborato dal Presidente del Tribunale di Sernia Enzo Di Giacomo in sinergia con consulenti dei quali si è avvalso, resta valido per quanto attiene alla intelaiatura e alla struttura. Fa sapere l'assessore regionale alle attività produttive Carlo Veneziale. Quello che dobbiamo riguardare insieme è la fonte di finanziamento. Il Fondo Sociale Europeo non ci consente per regolamento comunitario e non per scelta la possibilità di destinare le somme che abbiamo immaginato come autoimprenditorialità per gli imprenditori alla partecipazione di capitale. Quello che va modificato nel piano è la fonte di finanziamento. Io sono convinto che attraverso lo sforzo della Regione con la delegazione parlamentare e l'interlocuzione ministeriale fonti alternative di finanziamento anche attraverso la possibilità di invitalia di partecipare al capitale di rischio possano essere individuate. Ci stiamo già lavorando fermo restando che naturalmente tutto quello che stiamo costruendo per dare agli imprenditori nuove occasioni di investimento che prescindano dall'esperienza OTI ma che tengano conto dei lavoratori ex ITR ed ex OTI sono tutte assolutamente in piedi e tutte assolutamente a disposizione delle tessute imprenditoriali. Ecco il suo è un riferimento allo strumento dell'area di crisi complessa? Non solo allo strumento dell'area di crisi complessa e a tutti gli strumenti di bandi regionali che di corollario rispetto allo strumento principale che è dell'area di crisi complessa stiamo mettendo a disposizione del tessuto imprenditoriale. Quelli per l'area di crisi complessa per investimenti particolarmente corposi, quelli della Regione quindi della programmazione comunitaria per investimenti che hanno dimensioni di liquidità più basse del milione e mezzo di euro insieme l'una per quelli più alti, gli altri per quelli più bassi.